Dove vai? Mamma, te l'ho detto già tre volte. Te l'ho detto tre volte che uscivo stasera. Non è vero. Non pensavo scherzassi. Senti, non vado da nessuno. Vado dal signor Di Palma, te l'ho detto, ma tanto tu non mi credi. Vai dal signor Di Palma? Allora, il signor Fiorentini se ne va. Sai chi è Fiorentini, no? Lascia la ditta dopo molti anni. Allora il signor Di Palma dà una specie di festa insonore a casa sua. Cioè non è proprio una festa, è solo qualche... Vabbè, ci ha invitato tutti e mi tocca andarci. Ci vanno tutti e ci devo andare anch'io. Non ho nessuna voglia, però devo. Beh, non so se... Tanto non farò tardi. Non ho nessuna voglia ad andarci. Preferirei molto di più rimanere qui con te. Davvero? Lo sai benissimo. Chi è che ha voglia di andare alle feste del signor Di Palma? Doviamo giocare a carte. Beh, dobbiamo rinunciarci. Cambia la lampadina nella stanza della nonna. Senti, ti ho detto che non ci vado lì con la camicia bianca, capito? Non c'è la luce, rischio di sporcarmi tutto. Ti avevo detto di mettere una luce in cantina. Te l'avevo chiesto proprio ieri. Eh, ho capito, ma adesso non posso. Eh, se ci fosse una luce in cantina le troveresti subito le lampadine. Sì, ma non capisco... Non vorrei che ci vada io in cantina. Non capisco perché dobbiamo tenere le lampadine in cantina. Se tuo padre ti sentisse alzare la voce con me, si rivolterebbe nella tomba. Non ho che te, Alberto. Non ho nessun altro al mondo. Mettitelo... Mettitelo bene in testa. E ti scusa, mi sei alzato la voce. Però adesso devo andare. Alberto, aspetta. Devo chiederti una cosa. Che c'è? Tu ti comporti bene, vero? Bene. Eh, non è che ti comporti male. Ma cosa dici? Non è che vai in giro a spassartela con delle donne. Cioè, stasera... Vai in giro a spassartela con delle donne? Non devi dire sciocchezza, ok? Rispondi a tua madre. Non frequento nessuna donna. Ah! Vuoi dirmi che stasera non c'è nessuna donna? Alla festa della ditta? Cioè, le ragazze dell'ufficio. Sì, ma non me ne piace nessuna tanto. Giura. Che devo giurare. Che... Che non darei di dispiacere a tuo padre. A mio padre? E come faccio a dare un dispiacere a mio padre? Non fai che dire che do dispiacere a gente che è morta e sepolta. Tu non sai quanto male mi fai. Tu non ti rendi conto di quanto mi fa male sentirti parlare così di tuo padre. Ma sei morto. No! È vivo. È vivo qui. E anche in questa casa.